No ma Pioli tranquillo, tra poco vado a giocare io, c'è tanto di infortuni che abbiamo, anche stasera tre giocatori usciti per gli infortuni, tre giocatori in una partita tra cui uno che aveva sostituito quello che era uscito per infortunio Cioè noi stasera abbiamo a un certo punto visto sul finale Teo Hernandez adattato difensore centrale, perché anche quello che non ha mai giocato, Pellegrino, che era entrato a sostituire Calulu, persino lui se ne è uscito zoppicando Vesso fine della partita 88, quello che era, non mi ricordo, quindi no ma tranquillo Pioli, se vuoi vengo a giocare io, non c'è problema, tanto la maglia ce l'ho, è dell'anno scorso Però magari, tanto i colori sono sempre quelli lì, i colori sociali non cambiano, più o meno, tanto uno potrebbe anche usare, rinnovare la stessa maglietta ogni anno, è una cosa di marketing, si fanno le varie magliette Usiamo questa qui, mi distingo un poco, anche se non c'è la maglia per me, uso questa qui senza nome, senza nulla Guarda, se vuoi Pioli, firma proprio ora, firma proprio ora, così concretizziamo il passaggio Prego presidente, firmi anche lei No guarda Pioli, veramente, se vuoi in difesa un pensierino, sono anche comunque robusto di costituzione, di fisico posso dire la mia Posso cavarmela se vuoi in difesa, io un pensierino ce lo farei ecco Vabbè, comunque ragazzi, scherzi a parte, tra poco veramente devo andare a giocare io o qualcun altro di voi Per quanto riguarda i tifosi rossoneri che magari un minimo sanno giocare a calcio Perché veramente ormai non si capisce più nulla Ma è sempre stato un problema comunque degli ultimi anni del Milan Dello staff di Pioli, dei preparatori di Pioli Perché obiettivamente se non allenatore, perché comunque secondo me l'allenatore non è, diciamo, ha delle responsabilità sicuramente nelle ultime partite del Milan Ma in generale nei risultati negativi del Milan di quest'ultimo periodo E più che altro recidivo anche negli sbagli e tutto Però grande colpa hanno anche i preparatori, ovviamente sempre del suo staff In questa marea di infortuni, ma mai come quest'anno ragazzi Perché ci sono sempre stati problemi anche negli ultimi anni Ma ora abbiamo addirittura 8-9 infortunati già a fine ottobre E tre giocatori che si infortunano nella stessa partita Poi arriviamo anche alla responsabilità di Pioli Che comunque oggi in realtà eravamo anche partiti Cioè nel primo tempo abbiamo fatto anche un buon primo tempo, un ottimo primo tempo Parliamo anche un po' della partita chiaramente, anzi molto della partita Pioli che ovviamente si è fissato, deve giocare Krumic al centrocampo invece di Adli E anche oggi Adli non ha proprio giocato, nemmeno subentrato oggi Adli Nemmeno quando la partita era in pareggio e poteva dare qualcosa in più L'ha fatto entrare Adli, che mi sembra che non si è infortunato Tra quelli che non si è infortunato Perché noi abbiamo infortunati Lofstuchik che si diceva che dopo la pausa delle nazionali doveva ritornare L'avete visto voi Ciukwezz si era fatto male anche lui Kier, mo, si è fatto male anche lui Non è entrato e si è fatto male Oggi vabbè, se si è fatti male Kalulu si è riuscito al ventesimo Quello che è, è entrato Pellegrillo Si è riuscito pure lui prima della fine della partita Si è riuscito anche Pulisic all'intervallo Che poi dopo ci hanno detto che era un infortunio in telecronaca Per far entrare Luca Romero Tra l'altro Pulisic ha fatto anche assist Una discreta partita nel primo tempo Poi altri giocatori infortunati Vabbè, Sportillo, Caldara, Benazer Benazer ormai è morto Non so nemmeno se si fa parte più della rosa De Milan Cioè ragazzi Abbiamo praticamente 8-9 giocatori in questo momento Infortunati ma addirittura oggi Siamo proprio all'epoteosi Perché 3 giocatori infortunati nella stessa partita E quello che subentra a quello infortunato Si fa male anche lui Cioè se ne esce zoppicando Tra l'altro Calulu comunque è una Anche lì comunque una lesione Cioè comunque un infortunio muscolare Anche lì credo Pulisic invece per una contrattura È stato fatto uscire per precauzione Si è detto Comunque ragazzi Parlando ovviamente un po' della partita Primo tempo In realtà loro avevano iniziato un po' meglio Nei primi 10 minuti, un quarto d'ora Poi dopo abbiamo reagito Con grande intensità Abbiamo recuperato L'abbiamo messo molto sotto pressione Abbiamo attaccato anche con tanti uomini Sembrava quasi Milan Delle prime partite di campionato Che è attaccato con tanti uomini Anche in area di rigore Nei cross portava tanti uomini in mezzo Poi vabbè Giroud oggi era on fire Con quei due gol fantastici Soprattutto il secondo Ma anche il primo E comunque oggi Tanti palloni nel corso del primo tempo Recuperati in attacco Con spezzoni di partita del primo tempo In cui proprio il Napoli Non riusciva nemmeno a ripartire Perché noi recuperavamo palla alta Palla alti E subito comunque andava mai cross Comunque da una fascia all'altra Cercavamo spazi Sovrapposizioni Un buon Milan Direi nel primo tempo Un gran bel Milan Con occasioni Subito una grande occasione per Giroud All'inizio di partita Dove si è immolato Rachmani Che poi verrà anche sostituito Perché molto in difficoltà In marcatura Soprattutto su Giroud Poi al 22esimo minuto Il gol di Giroud Sul cross di Pulisic Palla che colpisce Anzi parla parata da Meretto Che poi viene in rete 27esimo minuto Clamoroso gol Sbagliato da Politano Che su un cross di Quara Che ha fatto un'ottima partita Oggi Trascinatore di questo Napoli Con uno simen Tra l'altro anche infortunato Quindi lui in questo momento Il trascinatore del Napoli Politano qui sbaglia un gol Diciamo Si è detto Non sul piede forte Però da lì Oggettivamente Due passi Da porta Porta Specchio di porta Mezza vuota E lui manda sull'esterno Della rete Questa era una Importante Importantissima occasione Per il Napoli Poi al 31esimo minuto Doppietta di Giroud Altro gol Grande gol di Giroud Su cross di Calabria Che oggi è sembrato Un giocatore di calcio Nel primo tempo Anche Musa Mi è piaciuto molto Ha avuto delle buone iniziative Nel primo tempo Poi abbiamo assistito A alcune scelte Diciamo ad esempio Un Renders Che a un certo punto Poteva Darla sulla sinistra Con un layout Tutto solo Invece È andato al tiro Mi sembra Ribattuto Poi sempre Renders Al 41esimo minuto Tira alto Su un passaggio Basso di Teo Anche questo Un'ottima occasione Sprecata stavolta Per il Milan Perché lui lì Comunque tutto solo Anche qui con mezza Porta vuota Portiere che è preso In controtempo Dall'altra parte Della porta Tutto lo specchio Di porta Disponibile È vero che il cross Era abbastanza forte Però tu la mandi alta Questa è stata una grande Occasione per Renders Spesso diciamo Impreciso In fase di finalizzazione Non solo in questa partita Ma dico in generale Però Da rifinitore Comunque Lì Nella manovra È un giocatore Molto molto importante Quindi comunque Nel primo tempo Un Milan super convincente Potevamo anche fare Più di due gol Per la verità Con un giro In forma smagliante Ecco Lui è l'uomo Che ci può aiutare Appunto di vista Dell'attacco Con tanti uomini in aria Lui è quello Che può darci La marcia in più Comunque Da punto di vista Fisico Comunque Distazza Presenza Nelle di rigore Nel far salire la squadra Ma anche nel fare Nelle sponde Ma anche Ovviamente Nelle di rigore Nel colpire la palla Di testa Comunque nel gioco aereo L'uomo in più Poi anche oggi Comunque Treticamente L'ho visto bene Poi si è arrabbiato Lui molto Nel finale Per la sostituzione Noi se avessimo Un attaccante Una prima punta Sostituto di Giroud Decente Perché Okafor Pioli non la vede Come una prima punta Pura Ma in realtà Lui effettivamente Non è una prima punta Proprio fissa Pura ecco Se avessimo Un sostituto decente Potrebbe anche uscire Giroud Cioè non ci sarebbe Un grosso problema Secondo me Poi metti Jovic Che per carità Jovic Oggi ha giocato 10-15 minuti Non è che poteva Fa granché Però ogni volta Non è che dà Quella cosa in più Okafor invece È entrato Al posto di Leao Ad esempio Alla fine Per la verità Bene Sulla sinistra Qualche cosina L'ha fatta Parlando invece Di Leao Nel primo tempo In realtà Anche Benino Poi nel secondo tempo Diciamo che Un po' sparito Dalla partita E anche qualche scelta Molto discutibile Leziosa Come quel pallonetto Prima nel primo tempo Ad esempio Un tacco Totalmente così Gratuito Ecco Un colpo di tacco Nel cercare il compagno Ma così Giusto per Una scelta molto leziosa Ecco una finezza Nel secondo tempo Che ovviamente Non ha portato risultati Nel secondo tempo Quel pallonetto Era nel secondo tempo Quel pallonetto Lì Che tra l'altro Totalmente senza senso Perché il portiere Comunque era in porta Quel pallonetto Un pallone buttato Quindi scelta Discutibile Discutibile Leao che deve migliorare Da questo punto di vista Ed essere più concreto E meno Meno che Meno spocchioso Ecco Meno lezioso Anche E te ha qualche scelta La sbagliata Più di qualche scelta Per la verità Ha fatto anche cose buone Tipo quel pallone Messo in mezzo Per il Reinders Qualche cosa Di buono L'ha fatto Però qualche scelta Anche lui sbagliata Però dopo il Milan Del primo tempo Diciamo che Garzia Te l'ha intortato Diciamoci all'età Perché con quel triplo cambio Comunque ha messo Alleato Rachmani Che era molto in difficoltà In marcatura Ha messo Soprattutto sul secondo gol Poi ha tolto Ha messo Ad esempio Ha alzato un po' Con la squadra Comunque ha messo Simeone Ha tolto del massa Ha fatto tre cambi Ha dato una nuova impronta Alla squadra E ci ha messo in difficoltà Nessun tempo Perché poi Napoli per 20-25 minuti Ha giocato Prende solo in Napoli Per almeno un quarto Dora 20 minuti E infatti sono arrivati Due gol Il gol di Politano In cui Pellegrino Sutt'altro Che è impeccabile Lì Che si è fatto saltare Molto facilmente Un tiro molto forte Di Politano Poi è stato tredesimo Il gol di Aspadori Da punizione In cui secondo me Barriera Portiere Potevano fare qualcosa di più Soprattutto il portiere L'ho visto un poco spostato Versi il secondo palo Forse un po' troppo È vero che il tiro Era molto bello A giro Preciso Sul primo palo Un gran bel gol Va detto Però non so se magari Poteva fare qualcosa di più Nel coprire bene il primo palo Un'altra occasione Anche per Lorenzo Poco prima Poi al 68esimo minuto Attorno comunque A 65esimo Reagiamo un poco C'è un tiro di Leao Sul primo palo Parato da Meret Poi c'è questo Doppio cambio Come detto all'ottantesimo Con l'entrata di Jovic E Okafor Con sia Leao che Isru Che escono abbastanza Arrabbiati Contrariati Giocatori che spesso Stanno uscendo Arrabbiati E non soddisfatti Dei cambi di Pioglio Comunque Stanno andando spesso Contro l'allenatore Nelle sue scelte Nelle sue scelte Ultimamente Ed era una cosa Che non vedevamo spesso Per la verità Poi All'89esimo minuto C'è anche L'espulsione di Nathan Per doppio giallo Questa volta Diciamo L'ultimo giallo E quello immediato Su Romero In cui comunque Romero alla fine Aveva alzato questo pallone Che comunque era perso Alla fine Quindi poteva anche Diciamo È stato un fallo Un po' gratuito Perché alla fine Lui Romero È vero L'aveva sorpassato Alzando questo pallone A Nathan Ma il pallone Era ormai Irraggiungibile Secondo me Quindi vabbè Comunque Non è un'espulsione Che ha cambiato molto La gara Perché è sopraggiunta Anche nel finale Un'altra grande occasione C'errebbe avuta Proprio nel finale Con Carabria Il 91esimo minuto Con un colpo di testa Di poco fuori Comunque sull'esterno Della rete Da posizione Anche qui Molto ravvisinata Poi c'è un ultimissimo Lampo di Quaratschera Proprio con una parata Di Magnan Proprio all'ultimo secondo Con un tiro non angolatissimo Però comunque Magnan risponde presente E così finisce la partita Con un Magnan Che ha fatto Alcune parate importanti L'ho visto anche in sicuro A parte che sul gol Vabbè Però L'ho visto anche in sicuro In una presa In cui stranamente Si è fatto scappare Un pallone In una presa Abbastanza semplice Invece lui Se l'è fatto scappare Poi Comunque si è pensato La difesa Non mi ricordo Com'è andata la cosa Però fortunatamente Non ha avuto conseguenze Quella mancanza lì Quella imprecisione lì Però non gravi errori Chiaramente Da parte del portiere Leao Comunque nel suo tempo Abbastanza maluccio Ecco Nel primo tempo Più ha fatto qualcosa di più Ma in generale Un po' tutto il Milan Nel primo tempo Ha giocato bene Anche sulla destra Musa Calabria Mena è pesuta Poi tutti i due gol Arrivati da cross Comunque palloni dalla destra Sulla sinistra Teo qualche pallone interessante Qualcosa l'ha fatta E quindi il Milan Che in generale Ha recuperato molti palloni In avanti nel primo tempo Poi nel secondo tempo Diciamo che dopo Il triplo cambio del Napoli Ci siamo un poco Fatti schiacciare dal Napoli Soprattutto per Fino al sessantesimo Sessantacinquesimo circa Poi dopo un po' Che abbiamo reagito Dopo il gol del pareggio E il Napoli Diciamo che noi abbiamo reagito Il Napoli si è tornato Ad abbassare un po' La partita un poco È andata scivolando via Verso questo pareggio Che ci può pure stare Per quanto si è visto in campo Secondo me Però Al di là del pareggio Perché tu puoi anche pareggiare Contro il Napoli Non è un problema Anche se Questo Napoli Non è quello dell'anno scorso Però La rosa comunque È una rosa Di tutto rispetto Puoi pareggiare Non è un problema Però Preoccupante Questa cosa di infortuni Perché secondo me Con la squadra Più o meno al completo Oggi Con qualche scelta diversa Di Pioli Di esempio Pioli Perché non ne hai fatti Entrare proprio ad lì Non capisco Perché non ne hai fatti Entrare ad lì Con qualche Non lo so Con qualche Sì con qualche giocatore Anche in più Che magari Era indisponibile Poteva essere disponibile Con uno staff Migliore di preparatori Di tutto ecco Con un off to stick In più Ecco Con questi giocatori in più Con Che è Cucuese Magari non lo so Qualcuno in più Magari potevi anche Fare qualche cambio E andare a Cercare il gol Del vantaggio Sul finale E ai forti anche Dell'espulsione Che per la realtà È arrivata molto A partita inoltrata Però All'ottantunesimo minuto Però molto preoccupante Questa cosa di infortuni Perché Veramente Noi ad esempio Prossima partita Abbiamo Ciao Abbiamo la coppia Titolare Penso ciao Tomori Perché ciao Ritorna Però Metti Caso Non so Vuoi fare un cambio In difesa Chi hai Difensori centrali Disponibili Vediamo cosa è successo A Pellegrino A Calullu Però In generale Questa cosa di infortuni Molto molto preoccupante Per cui Pioli Ti ripeto Se vuoi Vengo io In difesa Forse una mano onesta La posso dare Più di Pellegrino Magari la posso dare Comunque Scherzi a parte Molto molto preoccupante Questa cosa qui E per il resto Ragazzi Pareggio Ho detto Nel complesso Ci sta Cioè comunque Giusto Perché comunque Napoli Ha avuto una grande reazione Nel secondo tempo Forse qualcosa In più nuovo Nel complesso Perché nel primo tempo Rente abbiamo giocato Molto bene Sotto per larghi tratti Però Ci può stare Ora c'è la Coppa Italia Tra l'altro Poi magari facciamo Anche un video Su qualche altra partita Di questa giornata Di campionato Che ho visto Tra l'altro Promo stasera Che pubblico Questo video Il giorno dopo Quindi stasera C'è Lazio Fiorentina Magari da guardare Una partita interessante Lasciate un like Un commento Iscrivetevi al canale Se vi è piaciuto il video Condividete il video Con tutti i vostri amici Appassionati di caccia E tifosi del Milan E noi ragazzi Perché a presto Dei nuovi video sul canale Ciao a tutti A sempre 26 A presto